Pugidistica Carlevarino, un punto di riferimento per la box nella provincia di Savona, ma non solo. Società storica, grandi risultati. Glauco, ma partiamo da quella che è l'attività che giornalmente svolgete. Dove siete? Quanti ragazzi coinvolgete? E come fate per fargli appassionare, innamorare della box? Allora, noi siamo al palazzetto dello sport. Abbiamo l'onore di continuare questo sport da ring secondo la tradizione della Pugidistica Carlevarino che sono decenni e decenni, è una delle società più storiche della Liguria. Andiamo avanti facendo fare attività sportiva ai bambini a partire dagli 8 anni fino a persone di 70 anni. Abbiamo il più longevo che ha 67 anni, che si allena proprio. E poi abbiamo gli agonisti, dove abbiamo in questo momento 5 agonisti. Uno, proprio in questo momento qua, ci sta passando professionista nella categoria Neopro. Come si chiama? Si chiama Cucca Luan. Tra l'altro molto promettente perché ha soli 20 anni. E siamo contenti perché sono 20 anni che non si vedeva un pugile professionista nella provincia di Savona, nel panorama savonese. Box quindi per tutta l'età? Box per tutta l'età. Noi ci coinvolgiamo anche le scuole. Andiamo già da 5 anni nelle scuole nel linguistico e nell'artistico qui a Savona dove facciamo proprio promozione allo sport. Lo sport penso che sia fondamentale ed è molto importante, soprattutto la box che spesso viene presa, non conoscendola, come uno sport violento. Invece assolutamente è uno sport dove insegna il rispetto, insegna l'educazione, insegna la costanza e comunque dà una profonda autostima una volta che si impara bene questa nobile arte. Si sta andando verso la conclusione di questa stagione, obiettivi? Gli obiettivi è incominciare con il nostro pugile professionista, cercare di far crescere i nostri ragazzi giovani che stanno arrivando in nuove forze e continuare così.